Grazie a tutti In tutte le chiese del mondo Il Papa vuole che si dia attenzione A chi è il più bisognoso E allora io ho voluto oggi In preparazione della giornata domenica Invitarvi a casa mia E vi ringrazio di aver accettato l'invito Benvenuti Buon applauso Sono molto contenta di essere qui oggi Per condividere con alcuni fratelli Nella nostra comunità Meno fortunati di noi Questo momento di convivialità Sicuramente tornerò a casa Arricchita spiritualmente Per questa bellissima esperienza Oggi è un giorno speciale Siamo qui nel seminario di Ocesano Della Cerna Pronti A energire Il pranzo Ai nostri amici poveri Noi Tutto l'anno Ripariamo per giorno una mensa Però oggi è un giorno particolare Perché abbiamo anticipato Di due giorni Oggi è benedì Domenica La giornata mondiale della povertà Oggi ho ospitato a casa mia I poveri Di Ascerra Come Papa Francesco Ci indica Indica tutta la Chiesa Con la prima giornata mondiale Dei poveri E' stato un momento Molto bello Perché ho potuto stare con loro Condividere con i poveri Queste ore Di questa giornata Ovviamente Non è che Pensando Ha un solo Un pasto Il giorno Su 365 Che si risolvono i problemi Però Ad Ascerra Abbiamo Da anni Una mensa Diocesana Che ogni giorno Dà da mangiare A Un centinaio Di persone Che vengono Per i loro bisogni Soprattutto Di mangiare E' una iniziativa Molto bella Ed è un segno Che vogliamo dare Perché La società E la comunità cristiana Siano più sollecite Verso i nostri fratelli Soprattutto E noi Chongo Diocesana